Quinta parte della tredecesima lezione per l'insegnamento di analisi in matematica 1b. Abbiamo visto quindi le derivate prime e le derivate seconde di una funzione di n variabile, quindi se f di x1 xn è derivabile, abbiamo n derivate prime che possiamo organizzare nel vettore gradiente quindi formato dalla derivata rispetto a x1 eccetera fino alla derivata rispetto a xn. Quindi abbiamo un vettore di n componenti. Ciascuna derivata parziale poi è ancora una funzione delle n variabili e quindi possiamo fare le derivate seconde rispetto a n variabili per ciascuna. Quindi otteniamo n per n, ovvero n al quadrato, derivate seconde. Mentre le derivate prime le organizziamo nel vettore gradiente le derivate seconde le possiamo sistemare in una matrice quindi è n per n che si dice matrice siana. Quindi se esistono tutte le derivate seconde possiamo definire la cosiddetta matrice siana la indichiamo con una letra h della funzione f nel punto x prendendo le derivate parziali e sistemare in una matrice. Quindi nella prima riga mettiamo le derivate rispetto a una variabili anzi facciamo così, nella prima colonna prendiamo le derivate rispetto a x1 di f le derivate rispetto a x1 ancora nella seconda riga mettiamo la derivata rispetto a x1 di f poi derivata rispetto a x2 e così via quindi nella prima colonna mettiamo tutte le derivate parziali della derivata rispetto a x1 nella seconda componente della prima riga prenderemo la derivata rispetto a x2 di f quindi stiamo derivando il gradiente rispetto a x1 seconda riga, seconda colonna avremo a derivata rispetto x2 due volte e così via poi avremo la derivata rispetto a x2 di f derivata rispetto a xN nell'ultima componente eccetera eccetera quindi avremo l'ultima componente della prima riga sarà derivata rispetto a xN di f derivato rispetto a x1 e l'ultima componente dell'ultima riga sarà la derivata seconda rispetto a xn in entrambi i casi ok quindi in generale la componente generica della matrice siana non è altro che la derivata seconda rispetto a xj rispetto a xj di f dove i è un indice che varia da 1 a n e indica la riga e j è un indice che va da 1 a n e indica la colonna quando le derivate seconde sono continue per il teorema di Schwarz che abbiamo visto prima Schwarz le derivate miste coincidono quindi avremo che la derivata di xj i x i di f coincide con la derivata rispetto a x i della derivata rispetto a xj di f e dunque la matrice siana anche f è una matrice simmetrica e questa è una cosa importante perché sapete che le matrici simmetriche hanno delle ottime proprietà algebriche in particolare sono diagonalizzabili vediamo di fare un esempio di calcolo di matrice siana andiamo a prendere che so la funzione f di x y z vediamo x per e alla 2 y per seno di 3 y anzi se siano 3 z prendiamo la funzione di 3 variabili ok andiamo a calcolarci il gradiente il gradiente di f rispetto alle 3 variabili sarà la prima componente devo derivare rispetto a x e quindi mi verrà e alla 2 y per il seno di 3 z la seconda componente devo derivare rispetto a y quindi abbiamo la x l'esponenziale derivato e alla 2 y che mi dà un 2 davanti seno di 3 z la terza componente devo derivare rispetto a z quindi abbiamo i primi due fattori che moltiplicano la derivata di seno di 3 z che è coseno di 3 z con un 3 davanti adesso andiamo a calcolare la matrice siana e quindi quando andiamo a calcolare la matrice siana di f nel punto x y z avremo allora nella prima riga prima colonna devo derivare rispetto a x la prima componente ma la prima componente non dipende da x e quindi la derivata rispetto a x è 0 poi nella seconda nella seconda riga sempre prima colonna devo derivare rispetto a x a y e quindi avremo e alla 2 y per 2 per il seno di 3 z nella terza riga devo derivare rispetto a z quindi avremo e alla 2 y la derivata del seno è coseno di 3 z per 3 poi nella seconda colonna andiamo a derivare la seconda componente rispetto a x questa volta c'è qualcosa è 2 per e alla 2 y seno di 3 z rispetto a y rispetto a y avremo quando deriviamo le disponenziali abbiamo un ulteriore fattore 2 quindi abbiamo 4 x e alla 2 y seno di 3 z quando deriviamo rispetto a z abbiamo un fattore 3 quindi 6 x e alla 2 y coseno di 3 z la terza colonna devo derivare la terza componente rispetto a x avremo 3 e alla 2 y coseno di 3 z derivata rispetto a y mi viene un fattore 2 quindi 6 per x e alla 2 y coseno di 3 z quando deriviamo rispetto a z la derivata del coseno mi dà un seno un meno seno poi c'è un fattore 3 quindi mi verrà 9 x e alla 2 y con il meno seno di 3 z e questa è la nostra matrice essiana facciamo un altro esempio andiamo per esempio a calcolare la matrice essiana della norma abbiamo già calcolato il gradiente della norma nella lezione precedente quindi andiamo a prendere come f di x la norma del vettore x supponiamo che x sia un vettore di rn noi abbiamo già calcolato se vi ricordate dalla lezione precedente che la derivata rispetto a xk della norma di x era la funzione 1 su norma di x per componente k di x qui k è un qualsiasi indice che va da 1 a n adesso andiamo a derivare ulteriormente rispetto alla alla jesima coordinata quindi andiamo a fare la derivata rispetto a xj della derivata rispetto a xk della norma del vettore x questa è la derivata rispetto a xj di questa derivata quindi abbiamo x alla meno 1 in norma per xk quindi si tratta di un prodotto quindi facciamo la regola di Leibniz quindi abbiamo la derivata rispetto a xj di x norma di x alla meno 1 per xk più norma di x alla meno 1 per la derivata rispetto a xj di xk allora intanto osserviamo una cosa che la derivata rispetto a xj della variabile xk allora qui abbiamo due casi se xk e xj sono la stessa variabile stiamo derivando una cosa rispetto a se stessa quindi otteniamo 1 se j è uguale a k se invece j e k sono due variabili diverse una è una costante rispetto all'altra quindi la derivata viene 0 se j è diverso da k questa quantità che è 1 quando gli indici coincidono e 0 quando gli indici sono diversi lo indichiamo con la delta di jk si chiama anche delta di Kronecker o Kronecker non lo saprei e quindi andiamo avanti qui adesso abbiamo la derivata non della norma ma della norma elevata a meno 1 quindi è una funzione composta il reciproco quindi quando deriviamo il reciproco otteniamo meno x alla meno 2 stiamo derivando la potenza alla meno 1 per la derivata rispetto a xj della norma derivata di funzioni composte che moltiplica xk più la norma di x alla meno 1 per questo simbolo di Kronecker delta jk dopodiché qui abbiamo meno norma di x alla meno 2 per la derivata della norma che abbiamo detto già lo sappiamo questa volta rispetto a xj non xk quindi abbiamo x norma di x alla meno 1 per xj per xk più norma di x alla meno 1 per delta jk e quindi viene fuori abbiamo un meno norma di x alla meno 3 per xj xk più norma di x alla meno 1 per delta jk possiamo riorganizzare la cosa raccogliendo raccogliendo una norma di x alla 3 al denominatore e quindi qua mi viene norma di x alla seconda per delta jk meno xj meno xj xk e quindi cosa viene fuori a seconda che j e k coincidono o meno quindi abbiamo 1 su norma di x al cubo che moltiplica qui abbiamo qui abbiamo norma di x al quadrato meno xk al quadrato se j è uguale a k quindi qui abbiamo la somma dei quadrati tranne il quadrato capesimo che viene sottratto e qua invece se j è diverso da k abbiamo 1 su norma di x al cubo il simbolo di Kronecker si annulla e rimane solo meno xj xk a questo punto tutto misto nel caso in cui siamo in tre dimensioni quindi invece che usare x1 x2 x3 andiamo a usare le lettere x y z abbiamo che quindi possiamo scrivere l'essiano della funzione norma nel punto x y z questo è uguale 1 sulla norma al quadrato quindi avremo 1 fatto la norma al quadrato si fa x quadro più y quadro più z quadro scusate non al quadrato al cubo la norma sarebbe la radice quadrata poi elevata al cubo quindi tutto elevato da tre mezzi che moltiplica e cosa abbiamo? quando abbiamo k uguale a 1 abbiamo la norma al quadrato meno x1 al quadrato quindi rimane y quadro più z quadro quando abbiamo 1 2 siamo nel caso sotto e quindi rimane x1 x2 cioè xy qua rimane xz qui viene fuori una cosa simmetrica nel caso 2 2 abbiamo tutta la somma dei tre quadrati meno x secondo al quadrato quindi rimane x quadro più z quadro ma qua c'era anche un meno che mi avevo dimenticato fuori dalla diagonale abbiamo sempre dei prodotti misti con meno quindi qui avremo yz qua abbiamo yz e qua abbiamo x quadro più y quadro e questa è la formula del essiano della norma in R3 in R3 Grazie a tutti